Ho fatto una ricerca online e ho trovato il TED Talk di un certo Peter Madsen. Negli anni 60... È una celebrità in Danimarca, ha costruito tre sottomarini e la sua ultima missione consiste nel realizzare un razzo artigianale con cui andare nello spazio. Lo sta facendo con i pochissimi fondi ottenuti da qualche donazione ed ha ricavato delle sue conferenze. E incredibilmente è arrivata gente da tutto il mondo per aiutarlo. Gli ho scritto proponendogli di realizzare un documentario sulla realizzazione del suo razzo. ed ecco cosa mi ha risposto. Emma, stai per entrare in una bella gabbia di matti. Ti sto scrivendo dalla pancia di una balena meccanica, il sottomarino lancia missili balistici Nautilus. Sarà la mia casa questa sera. E stare qui mi fa sentire molto al sicuro. Ma il laboratorio che qui chiamiamo RML non si limita al Nautilus.